Vosca accademia culinarna, macaroniarze non cedono solo macaroni, e oggi vediamo pokeball Uosocia e tuncica, ma deve essere super fredda, e mi piace il scopo di popolare che sono fantastici e fredda, uosocia e tuncica, facciamo tuncica in plastica e facciamo lo stesso con uosocia, gotiamo il riso del sushi, vedo che struzzi in appakazione, e adesso abbiamo avocado, rzepa, kiello, uosocia, tuncica, cucca e poi aggiungiamo anche un pollo e poi aggiungiamo un pollo, troppo ostra paprika, ogure, fasiola sparagola, markia, troppo ostrii, ma piace il sce, e sono pronto, io mi piace di aggiungere un pollo sollo, e sono già do jedzenia, è fantastico smacchia, rivelazioni sproguete, ciao